Video virale di Chiara Ferragni su TikTok, una gaffi in spiaggia Chiara Ferragni ha optato per l'ironia e le battute nei suoi recenti post sui social L'influencer e imprenditrice digitale ha condiviso un video su TikTok che ha raggiunto una notevole popolarità In essa, Chiara è protagonista di un episodio divertente mentre esce dall'acqua dopo il bagno al mare Una caduta in attesa, in questi ultimi giorni, Chiara Ferragni continua a distinguersi con le sue pubblicazioni sui social Recentemente, è diventata virale non per un tipico, fit check, o per qualche battuta rivolata al marito Fedez, ma per una divertente gaffa accaduta in riva al mare L'influencer, con molta autoironia, ha pubblicato un video che la ritrae mentre esce dall'acqua e cade visibilmente La caption del video recita Fammi un video mentre corro fuori dall'acqua Nel breve filmato si vede Chiara uscire dal mare con un sorriso smagliante per poi perdere l'equilibrio e cadere Questo piccolo incidente ha rapidamente catturato l'attenzione di molti utenti del web, diventando un contenuto virale La battuta sulla separazione Prima del video con la caduta in mare, Chiara Ferragni è stata protagonista di un altro momento ironico, anch'esso in spiaggia Durante questa occasione, un fan l'ha riconosciuta e si è avvicinato per scattare una foto con lei Durante il breve scambio, il fan ha sottolineato come la Ferragni apparisse ancora più bella ora che è single Al che l'influencer ha risposto scherzosamente che la sua bellezza fosse merito, della separazione Un trend che sembra portarle fortuna, data la grande